Nel cuore della rinomata zona di Poggio Franco a Bari proponiamo in vendita un appartamento di circa 90 metri quadri, situato al terzo piano di un tranquillo e riservato complesso residenziale servito da ascensore. L'ingresso ci accoglie in un luminoso soggiorno, caratterizzato da una grande finestra che inonda l'ambiente di luce naturale, creando un'atmosfera calda e accogliente. Alla destra del soggiorno si apre una spaziosa cucina abitabile, dotata di un balcone interno con pratica zona lavanderia. Proseguendo lungo il corridoio si accede alla zona notte. La prima camera da letto, ampia e confortevole, gode di un generoso balcone esterno, perfetto per momenti di relax all'aperto. La seconda camera, ideale come cameretta o studio, dispone di un altro balcone interno. Il bagno padronale, moderno e ben rifinito e un comodo ripostiglio completano la disposizione interna. L'appartamento è termo autonomo, garantendo comfort e risparmio energetico in ogni stagione. Inoltre, la proprietà include un pratico posto auto scoperto all'interno del complesso, assicurando comodità e sicurezza. Questa soluzione è ideale per chi cerca un'abitazione in una delle zone più richieste di pari, con tutti i servizi a portata di mano e la tranquillità di un contesto residenziale. Non perdere l'occasione di visitare questa splendida proprietà. Contattaci per maggiori informazioni e per prenotare un appuntamento. Ciao, alla prossima! Ciao!